In cinque anni la Toscana ha investito più di 250 milioni di euro per le politiche della casa e nel 2019 si è dotata di una nuova legge per contrastare il disagio abitativo. Termometro del panorama della casa è il rapporto abitare in Toscana, giunto all'ottava edizione e presentato a Firenze nell'auditorium di Santa Pollonia nell'ambito del ciclo di incontri La Toscana che si muove. Ne esce un mercato immobiliare che nel 2018 è cresciuto ancora dell'8% con i mutui a copertura del 53,2% degli acquisti. Le richieste di sfratto sono calate del 20,2% sul 2017. e quelli eseguiti del 19,2%. Il grosso del rapporto è dedicato all'edilizia residenziale pubblica in cui tra 2015 e 2019 la Toscana ha impegnato oltre 110 milioni di euro. Nel 2018 sono stati assegnati 979 alloggi. Ovviamente ancora rimane comunque una necessità che è molto elevata perché noi abbiamo nelle gradatorie circa 21.000 persone. La nuova legge, il nuovo quadro normativo che abbiamo approvato a partire dall'inizio di quest'anno tra l'altro rende più fluida anche la gestione di questo patrimonio, dà più possibilità ai comuni di una gestione maggiormente flessibile e più vicina a quelle che sono le esigenze che loro conoscono bene nei loro territori e rispetto alle loro comunità. Crea anche una maggiore equità e vedo anche da parte dei soggetti gestori un impegno serio per quanto riguarda anche assieme ovviamente ai comuni per il recupero delle morosità e quindi per creare le condizioni per maggiori investimenti. Quali sono i principali numeri del sistema di edilizia residenziale pubblica che escono dal rapporto abitare in Toscana? Abbiamo 10 aziende per la casa che gestiscono il patrimonio dei comuni, quasi 40.000 sono gli alloggi, quasi 50.000, mi correggo, gli alloggi presenti sul territorio regionale e quasi 37.000 le famiglie che vivono all'interno di questi alloggi. Se dovessimo richiamare un dato critico relativo alla situazione dell'ERP è sicuramente quello degli alloggi sfitti in attesa di manutenzione. Come era già emerso l'anno scorso, mancano in molti casi le risorse per rimettere nel circolo di appartamenti, gli alloggi che si liberano e che hanno bisogno di importanti investimenti per essere appunto ristrutturati. Anche per questo motivo dobbiamo comunque ricordare i circa 110 milioni che la regione toscana ha messo a disposizione dei comuni nel periodo 2015-2019 proprio per questi scopi. Guardando all'intera legislatura sono stati circa 200 milioni di euro destinati al patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la Toscana si è spinta anche oltre per oltrepassare l'ostacolo dei tempi lunghi e soddisfare le domande con il bando per l'acquisto di appartamenti invenduti da destinare all'edilizia popolare che ha destato l'interesse del governo nazionale e che ha visto arrivare 24 proposte di acquisto, 10 delle quali ha messe a finanziamento per un totale di circa 15 milioni di euro. Con questi 15 milioni andiamo ad acquisire a patrimonio ERP 108 nuovi alloggi. Tenete conto che tutto questo avviene dalla pubblicazione del bando alla messa in disponibilità in meno di un anno di tempo. Nuovi alloggi che hanno una categoria di efficienza non inferiore alla b che non consumano suolo e in tempi rapidissimi sono messi a disposizione per l'assegnazione. Tra le misure di contrasto al disagio abitativo esaminate dal rapporto abitare in Toscana poi ci sono quelle per il sostegno all'affitto anche ai giovani attraverso il progetto Giovani Sì della Regione che hanno fatto da scudo all'assenza dal 2016 del contributo statale. Negli ultimi 5 anni la Regione ha destinato a questo scopo 28 milioni di euro. Nel 2018 le domande di contributo sono state 15 mila 73 e le risorse stanziate hanno sommato i 5 milioni della Regione agli 8 milioni e mezzo dei comuni. Il contributo minimo erogabile non può essere inferiore ai 200 euro o al 10 per cento dell'importo perché sarebbero cose, è chiaro che la domanda è molto, le risorse non sono tante però il contributo all'affitto è una delle misure su cui la Regione Toscana ha davvero fatto il massimo per poter incidere. Sull'affitto c'è anche la contribuzione data al progetto Giovani Sì che è comunque un sostegno all'abitare e un contributo all'affitto che ha accontentato la domanda di circa 6 mila giovani, quindi una situazione complessivamente molto significativa rispetto alla richiesta che si è evidenziata e che ha consentito a molti giovani di diventare autonomi davvero dal nucleo familiare anche nella futura assenza di contributo regionale, questa dura tre anni e si è visto che qualcuno nel tempo sollecitato dal contributo affitti si è affrancato totalmente pagandosi un affitto proprio o addirittura in qualche caso comprandosi casa. C'è poi il capitolo dell'amorosità incolpevole, cioè causata da fattori imprevedibili come una malattia o la perdita del lavoro che impediscono di pagare regolarmente l'affitto. Su questo versante nel 2018 il Fondo Nazionale ha assegnato alla Toscana 3 milioni e 800 mila euro, di cui hanno beneficiato 308 famiglie. A questo fondo si associa poi il Fondo regionale per la morosità incolpevole con un ulteriore milione di euro finanziato dalla regione toscana che si è aggiunto agli ulteriori 1,2 milioni di euro di residui degli anni precedenti. Anche in questo caso parliamo di oltre 100 famiglie che hanno ricevuto il contributo per sanare le situazioni di morosità incolpevole a sanare fino al 70% della propria morosità accumulata. Il rapporto abitare in Toscana raccoglie anche altri dati indispensabili per disegnare lo stato della condizione abitativa in Toscana, cioè la distribuzione della popolazione, che al 31 dicembre 2018 in Toscana montava 3 milioni e 730 mila residenti e gli indicatori sul lavoro e sulla povertà. Un dato in particolare mostra il fenomeno nuovo degli appartamenti che tornano nella disponibilità dei gestori e che devono essere ristrutturati prima di essere riassegnati. Anche su questo si giocheranno le politiche dei prossimi anni. Abbiamo già annunciato per i prossimi anni risorse importanti, circa 8-10 milioni, da destinare in specifico alle ristrutturazioni, quindi agli alloggi di risulta, quindi a quegli alloggi che si liberano e che magari sono lì in attesa di essere consegnati perché mancano delle risorse. Quindi anche in questo caso, recependo anche delle sollecitazioni di chi gestisce il sistema, andiamo a fare questa scelta. E poi l'aspetto importante che voglio sottolineare, visto che ogni anno quando abbiamo fatto la presentazione di questo rapporto abbiamo chiuso con l'auspicio che anche a livello nazionale la casa ridiventasse una priorità nelle strategie di governo, il nuovo governo ha annunciato un piano casa nell'ambito della prossima legge di stabilità, al quale probabilmente, almeno informazioni verbali dicono, dovrebbero destinare circa un miliardo. Quindi questo sarebbe un passo importante che ovviamente va nella direzione giusta. Quindi c'è ancora molto da fare, i bisogni sono tanti, però crediamo di essere tra quelli che hanno fatto ciò che è nelle nostre possibilità per dare una risposta al disagio abitativo in Toscana. Grazie a tutti.